Chi usa o ha utilizzato pistole con il fusto polimerico è tentato prima o poi di rifare l'impugnatura della propria pistola per aumentarne il grip. Lo stippling, letteralmente punteggiatura, è una lavorazione che si esegue sull'impugnatura delle armi con fusto polimerico andando a scaldarne la superficie e modellandola con un pirografo per migliorarne o cambiarne il grip. Questa lavorazione, a prima vista semplice, richiede uno studio delle tecniche di gestione dell'arma e di quelli che devono essere i profili dell'impugnatura al di sotto della lavorazione. Devono essere attentamente considerate sia le dimensioni della mano del tiratore che i profili di scarico dell'energia del rinculo. Un buon lavoro andrà così a migliorare la nostra sensazione di presa sulla pistola sia come comfort di utilizzo sia come sensazione di contatto vero proprio con l'impugnatura.